Le splendide grotte di Stif sono tornate ad essere un'attrazione turistica del territorio aquilano. Hanno riaperto a giugno di quest'anno dopo una chiusura di 807 giorni a seguito del terremoto del 6 aprile 2009. Nella stagione estiva ha registrato migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia che hanno dato ossigeno all'indotto in un territorio che vive un periodo non facile a causa della crisi, amplificata dalla profonda ferita lungi da rimarginarsi che il terremoto ha inferto al tessuto economico di questa parte di cratere sismico. E le attività delle grotte di Stif non si fermano neanche in bassa stagione. Per lunedì 31 ottobre alle ore 18 muoverà ai primi passi un percorso di collaborazione con le compagnie teatrali Il Draghetto e il Daedalus dell'Aquila che nel suggestivo scenario delle grotte metteranno in scena uno spettacolo dedicato ad Halloween e che porrà l'accento sulle antiche origini celtiche e la complessa e suggestiva simbologia di questa festa. Un rapporto proseguirà. In futuro c'è l'intenzione di offrire lo spazio naturale della grotta anche per altri spettacoli teatrali a cominciare proprio dalla compagnia teatrali Il Draghetto uno spettacolo sull'inferno di Dante. Nonostante la chiusura di due anni da dopo il terremoto del 6 aprile 2009, abbiamo riaperto il 25 giugno del 2011, c'è stato un bel po' di movimento superiore alle aspettative. Parliamo di 20.000 presenze più o meno solamente nell'estate 2011 e adesso continueremo a preparare tutta la programmazione per il 2012 aspettando e sperando che la stagione iniziando da aprile con le gite scolastiche aprile e maggio porti poi a un certo flusso di turisti nell'estate.